E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti a questa nuova recensione, sigla! Ed eccoci qui con un action figure del 2016 per la linea SH Figures prodotta da Bandai e Tamashi Nations abbiamo tra noi Raffaele, Raffaele naturalmente, per la serie Teenage Mutant Ninja Turtles questa qui è la versione classica direttamente dalla serie animata degli anni 90 eccola qui nella sua confezione, devo dire che si sono impegnati davvero molto sul design di queste confezioni e il risultato si vede tantissimo, guardate qua che figata! Sul lato qui abbiamo appunto un'immagine cartunesca appunto di Raffaele sorridente poi sul retro invece abbiamo qualche posa della nostra figure e features qui è posata anche insieme alle altre tartarughe qui sull'altro lato semplicemente il nome Raffaele, sulla parte superiore stessa cosa e sulla parte inferiore notiamo una chicca ovvero il volto zoomato della tartaruga in forma animata comunque non perdiamo altro tempo su questa confezione ma prima vi dico anche che comunque era dotata di brown box essendo questa figure esclusiva del Bandai Collector Shop quindi purtroppo non ristampabile detto questo andiamo a vederla fuori dalla confezione ed eccoci qui con il nostro Raffaele e tutti i suoi accessori andiamo subito a vederli partiamo con le mani intercambiabili abbiamo due paia destra e sinistra di queste mani aperte davvero molto molto ben realizzate ovviamente pulitissime qui non c'è painting ma è semplicemente il verde della plastica poi abbiamo queste altre due sempre destra e sinistra con questa particolare impugnatura non troppo chiusa serve per esempio per prendere gli altri accessori tipo il Kunai e gli Shuriken che vedremo dopo e poi abbiamo queste altre invece con l'impugnatura ben chiusa sempre destra e sinistra comunque molto semplici però ben realizzate ora abbiamo questo particolarissimo accessorio addirittura una fascia intercambiabile per la parte posteriore perché? perché normalmente appunto è dotata di questa fascia dove si possono inserire i due sai le due armi distintive del nostro Raffaele e poi hanno voluto includere appunto questa fascia che si può sostituire a questo pezzo per appunto avere una fascia senza i due foderi per le armi diciamo che è un tocco in più che non è male vediamo adesso anche i due sai più nel dettaglio sono fatti molto molto bene guardate qui il pentica argentato quanto è figo pulitissimo ovviamente e anche il marrone sui manici è fatto davvero davvero bene questi qui sono in plastica naturalmente inoltre abbiamo un viso intercambiabile o meglio una testa intercambiabile con questa espressione abbastanza arrabbiata se traverete anche la lingua all'interno della bocca e vi faccio notare un particolare ovvero che questa testa non ha questo fiocchetto qui che appunto verrà rimosso da questa e messo su questa quando si vorrà cambiare e un altro particolare è che questa fessura per inserirlo vedete è quadrata e questo che significa? che purtroppo il fiocco non potrà girare lateralmente ma sarà fisso in quella posizione questa qui devo dire che è un po' una mancanza a mio parere andando a vedere il resto degli accessori abbiamo questo fantastico kunai con un painting argentato leggermente diverso quello dei sai come vedete è un argento molto più vivo quello dei sai questo qui è un po' più scurito devo dire che non è male come cosa e abbiamo anche lo shuriken sempre con questo painting che si intona diciamo al kunai entrambi realizzati magistralmente ora ragazzi andiamo a vedere la nostra tartaruga eccola qui ragazzi questo è il volto base di cui è dotato ovvero questo viso serio devo dire realizzato praticamente alla perfezione è davvero incredibile qui abbiamo la continuazione della fascia che vi ho detto prima e poi vediamo gli altri dettagli guardate qui il guscio come è realizzato bene sembra uscito direttamente dalla serie animata così come tutta la figure ovviamente guardate qui questa parte è perfetta inoltre è in plastica morbida questo per non limitare le articolazioni che poi sono fantasmagoriche naturalmente le andremo a vedere vediamo anche tutto lo scalp delle braccia delle gambe con questa muscolatura resa a dir poco alla perfezione la figure nel complesso è praticamente perfetta e inoltre questa parte qui degli stinchi più i piedi è fatta in metallo in diecast infatti al tatto si sente che è molto più fredda del resto della figure e questo dà una grandissima stabilità perché dà più peso sulla parte inferiore quindi la figure potrà assumere qualsiasi posa anche magari dinamica senza perdere l'equilibrio comunque andiamo a vedere le articolazioni del nostro Raffaello abbiamo la testa qui su sfera che ha un gran raggio di movimento in su anche in giù e poi anche lateralmente naturalmente può ruotare inoltre abbiamo l'articolazione qui al collo come vedete che permette un ulteriore raggio di movimento incredibile alla testa che davvero non ha limitazioni qui alle spalle abbiamo questa fantastica butterfly joint che permette questo movimento in avanti delle braccia e all'interno inoltre abbiamo un'ulteriore articolazione a cerniera all'interno delle butterfly joint è una cosa incredibile guardate qui infatti si vede benissimo il movimento e inoltre abbiamo anche una sfera all'interno di quest'altra articolazione quindi ragazzi la limitazione alle braccia è assolutamente assente possono fare qualsiasi movimento naturalmente possono anche ruotare in avanti e indietro e c'è l'ulteriore cerniera che permette anche l'apertura in questo modo quindi ragazzi un'articolazione spaventosa forse la migliore che abbiamo mai visto riguardo le braccia comunque abbiamo anche la rotazione qui al bicipite doppia articolazione qui al gomito la gomitiera non limita assolutamente la posabilità poi abbiamo il piegamento al polso e anche la rotazione inoltre qui a mezzo busto come vedete abbiamo l'articolazione che permette il piegamento in avanti e come vi ho detto questa parte è in plastica morbida quindi non limita assolutamente l'articolazione e può morsi anche lateralmente in questo modo e inoltre ragazzi un'ulteriore chicca è che il guscio è articolato ora non so se riesco a farvelo vedere ma muovendolo un po' vedete può andare su e giù in questo modo perché c'è una sfera ecco qui l'ho un po' rimosso vedete c'è proprio la sfera che ovviamente ora rincasterò per bene e quindi il guscio può andare leggermente sopra e sotto e anche un po' lateralmente proprio per favorire qualsiasi movimento pensiate di fare con la fir qualcosa di a dir poco incredibile inoltre ragazzi abbiamo anche articolazione e di rotazione qui alla parte bassa della vita e anche a sfera può andare in avanti e indietro il piegamento della gamba in avanti fino qui va un po' all'esterno forse questa è una piccola pecca però come vedete la plastica morbida non limita assolutamente nulla può andare anche all'indietro in questo modo il guscio può un po' spostarsi vedete verso l'alto per favorire questo movimento poi abbiamo l'apertura delle gambe lateralmente praticamente massima incredibile rotazione qui alla parte alta anche questa molto ben fatta e anche bella da vedere poi abbiamo la doppia articolazione qui al ginocchio anche questa splendidamente realizzata e molto molto funzionale e poi abbiamo anche il piegamento del piede in su piegamento del piede in giù la rotazione laterale del piede in questo modo su sfera e inoltre il piegamento qui alla punta del piede ragazzi questa figure è articolata magnificamente non solo le articolazioni sono funzionali quindi fanno i movimenti che devono fare ma sono anche belle da vedere è qualcosa di magnifico e vedendola così da vicino inizio a capire perché queste tartarughe costino così tanto ragazzi qui la qualità c'è tutta e mi sento di dire che il prezzo è abbastanza giustificato anche se magari alla cifra a cui vengono vendute potevano includere anche una base e si potevano sforzare per quest'ultimo dettaglio comunque ragazzi questa recensione ovviamente non sarebbe completa se non paragonassi questa SH Figures a Raffaello della Playmates eccolo qua ragazzi feci la recensione di questa figure tanto tanto tempo fa sono anche affezionatissimo a questa figure però ragazzi mettendole a fianco il divario si nota e come questa figure Playmates ragazzi è fantastica però questa SH Figures è perfetta questa è la differenza non c'è altro da aggiungere però è ovvio che stiamo parlando di due figure comunque che hanno un prezzo molto molto diverso praticamente questa qui costa un terzo di questa SH Figures comunque ragazzi andiamo a misurare l'altezza di questo Raffaello e siamo praticamente sui 5 pollici e mezzo ovvero sui 14 cm praticamente spaccati andiamo anche a paragonare prima con Pizza Spider-Man già che ce l'ho qui di fianco è una Marvel Legends così vi regolate un attimo con l'altezza rispetto anche a questa categoria di figure e poi andiamo naturalmente con il mitico Monnezza Spider-Man lui essendo 7 pollici è molto molto più alto del nostro Raffaello detto questo ragazzi il voto che mi sento di dare a questa figure potete benissimo immaginarlo è un 10 pieno sta capitando un periodo di figure che prendono molti 10 però ragazzi qui c'è una qualità impressionante questa ragazzi è la figure definitiva di Raffaello dalla serie animata non credo ci potrà essere qualcosa di meglio perlomeno in questa scala comunque ragazzi la mia recensione finisce qui fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questo Raffaello con un commento qui sotto se il video vi è piaciuto potete lasciare il like e se volete aiutarmi potete condividerlo vi ricordo che se foste interessati a questa figure o a qualsiasi altra figure trovate tutti i link qui sotto in descrizione nonché i miei contatti per contattarmi appunto eventualmente io vi lascio alle pose fighe ciao da Raffaello e collezionate sempre grazie a tutti Grazie a tutti.